Villa a Belvedere ricevimenti. Originalità, eleganza e cortesia prendono valore e si trasformano in realtà. Un'ampia sala trattenimenti dotata di ogni comfort per festeggiare le vostre nozze. Villa a Belvedere ricevimenti. Per un sì da non dimenticare. Questa è un'alternativa che stiamo provando perché certe caratteristiche che abbiamo possono riportarci a poter fare anche questo. Però lavoriamo, ancora abbiamo modo e tempo per lavorare, le gambe sono pesanti ma sono viste delle cose discrete, buone. Nel secondo tempo il ritmo è troppo spezzettato e quindi meno qualità sottoporta, abbiamo sbagliato tanti gol, però per questo ci sarà tempo. Primo tempo, visto la squadra muoversi bene per quelle che erano le possibilità, anche stamattina abbiamo lavorato. Bene così, delle indicazioni positive su cui andare a lavorare ancora per quanto riguarda questo tipo di schieramento. È chiaro che con l'altro modulo giochiamo a memoria. Tutti i ragazzi al primo tempo hanno fatto una buona gara. È chiaro che quelli del secondo tempo, che peraltro sono, parlo, mi riferisco in particolare ai nuovi, hanno ancora da lavorare per potersi mettere in linea uguale ai vecchi che conoscono già bene come muoversi sul campo. Sappiamo che inizia prima il campionato, cercheremo di farci trovare pronti compatibilmente con quelle che possono essere un po' anche le nostre prerogative del momento. Abbiamo Gonzales che è fuori, abbiamo qualche ragazzo che ancora dobbiamo integrare, quindi però qui i ragazzi stanno lavorando bene per quanto riguarda siamo con il lavoro, con ritmi già buoni per quanto riguarda la preparazione e quindi continuiamo a lavorare in questo senso. Poi avremo nella prossima parte di ritiro già la possibilità di accelerare ulteriormente, quindi ecco, questa è la nostra idea. wo ah oh oh 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 fuelsi agree in every Александà No, every time you believe in everything